Cari amici, benvenuti in questo video dedicato all'esplorazione all'interno di Yandere Simulator. Ho già dedicato due video a questo meraviglioso mondo della post-mode, ma ancora non abbiamo finito di vedere tutte le cose interessanti dell'Academy Hight. Per questo motivo siamo finalmente pronti a librarci in volo e mi avete suggerito un posto ben preciso da spiare, ovvero lo spogliatoio dei ragazzi, in cui effettivamente non siamo mai entrati. L'ingresso sembra abbastanza normale, esattamente come quello delle ragazze, ma possiamo vedere che l'interno in realtà è abbastanza triste. Le dimensioni ovviamente sono uguali a quelle dello spogliatoio delle ragazze, ma qui c'è soltanto una singola cabina per cambiarsi, mentre qua dietro, dove si dovrebbero trovare le docce, non c'è niente. Quindi Ayano non soltanto non può entrare qui dentro, ma abbiamo anche scoperto il motivo. Il motivo è che non c'è letteralmente nulla da vedere. A questo punto sono curiosa di vedere che cosa fanno i ragazzi del club degli sport quando arrivano fin qui. Suppongo che arriveranno fino a questo piccolissimo spogliatoio e inizieranno a cambiarsi, un po' come accade in tutti gli altri club, quando le persone si cambiano i vestiti. Ecco qua i ragazzi del club degli sport che si stanno avvicinando. Come potete notare non stanno propriamente camminando, perché temo che l'uso della post mode abbia in qualche modo glitchato un pochino le cose. Stanno andando tutti quanti belli tranquilli fino allo spogliatoio e qui infatti entrano tutti insieme e ne riescono con la tuta da ginnastica indosso, ovviamente tutti quanti uno dopo l'altro. Un'altra cosa che mi avete chiesto di controllare è cosa si trova sotto la piscina. La verità è che non c'è nulla di particolare sotto la piscina, c'è soltanto appunto il fondale della piscina e qua giù si può vedere lo stanzino che ancora non ha nessuna funzione pratica ma che presto ce l'avrà, ma qui ovviamente ci potete entrare anche senza bisogno della post mode. Altra cosa che mi avete chiesto di guardare sono le fogne, però purtroppo come potete vedere in corrispondenza del tombino in realtà non c'è assolutamente niente, è come se il cadavere semplicemente sparisse nel nulla e si smaterializzasse da questo mondo. Non c'è veramente uno spazio sottostante al tombino dove i cadaveri vanno realmente a finire. È una sorta di spazio virtuale, ecco qua infatti la parte dietro del tombino, e semplicemente i cadaveri buttati qui svaniscono nel nulla, c'è un'animazione ma niente di più, non c'è veramente uno spazio in cui i cadaveri vengono nascosti. Mi avete anche chiesto che aspetto ha l'inceneritore quando c'è una persona dentro, la verità è che ha esattamente questo aspetto come quando è vuoto, perché anche qui si tratta soltanto di uno spazio virtuale in cui c'è un'animazione in corso, il gioco calcola che sì, effettivamente ci deve essere una persona, quindi non può farvela passare liscia nel caso arrivi la polizia, però a parte questo non c'è nessun cambiamento vero e proprio, non c'è nessun'animazione dei cadaveri che bruciano, semplicemente un cadavere infilato qui dentro sparisce, basta. Adesso per scrupolo andiamo qui e spostiamo il cassonetto dell'umido per buttarci dentro Osana, e mentre ci siamo procuriamoci anche un coltello, stavolta per far fuori la piccola Midori, povera stellina. Mettiamo qui dentro Midori per vedere nel caso cosa succede al suo cadavere, e poi buttiamo anche Osana lì sotto. Addio Osana, è stato un piacere conoscerti. Adesso possiamo cominciare a volare con la telecamera per scoprire che cosa è successo. Ovviamente nel cassonetto in cui c'è Osana potrete intravedere il corpo appunto di Osana, ecco qua i capelli, però è abbastanza incastrata nell'immondizia, ed è il motivo per cui se ce ne mettete ancora lei finisce per sparire del tutto. Reber è un po' preoccupata per la sua amica. Ah, ecco dov'è Osana, guardatela! In realtà si vede comparire un pochino da sotto perché c'è un po' di completazione poligonale, mentre per quanto riguarda Midori, come avevo detto prima, non c'è più nessuno dentro l'inceneritore. Il cassonetto, visto che deve rimanere sempre aperto, fa vedere chiaramente i cadavri al suo interno, ma la stessa cosa non vale per l'inceneritore, anche perché vi ricordo che prima di azionare l'inceneritore, voi potete ficcarci anche tanti 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 cadaveri, quindi non sarebbe opportuno che si vedessero tutti. Invece nel cassonetto ci può stare una sola persona alla volta. Ho appena deciso di riavviare la settimana, ma mi è venuto in mente che forse non ci sarebbe niente di male se iniziasse a esplorare un pochino anche la mia stanza. Pertanto voliamo con la telecamera anche qua dentro, soltanto per scoprire che in realtà qui non c'è praticamente nulla, c'è soltanto l'interfaccia, che in questo momento è al contrario, la cameretta di Ayano visibile sotto tutti i punti di vista, ma se usciamo da qui notiamo che non c'è assolutamente nient'altro da vedere, eccetto questa Ayano in pigiama che ci serve appunto quando arriva la sera e Ayano si deve cambiare il vestitino. Guardate che carina che è. Tuttavia, se una volta vista questa stanza cerchiamo di scendere, notiamo che c'è questo spazio nero abbastanza grande, che probabilmente è la casa di Ayano, dove lei e Osana si vedono nel caso che scelga il metodo Befriend o Betrayal. Purtroppo non è possibile vedere praticamente nulla, però se scendiamo ancora si vede chiaramente che c'è lo scantinato illuminato. Ecco, questa dovrebbe essere la casa di Ayano, mentre sotto abbiamo lo scantinato. Qui ovviamente voi ci potete accedere tranquillamente da camera vostra, però non potete accedere alla parte centrale della casa, quindi potete vedere la casa di Ayano soltanto nel mezzo delle cutscene. Mi domando se questa cosa in futuro verrà fissata. Questi ovviamente sono tutti gli oggetti che trovate all'interno dello scantinato di Ayano. Comunque sia, qua sotto ci potete venire tranquillamente, sia per conto vostro, oppure per cercare le audiocassette che sono nascoste negli angoli, oppure quando avete qualcuno da torturare. Che cosa bella! In realtà non avevo mai visto così bene nel dettaglio tutte le cose che si trovano qua sotto, però mi fa piacere vedere che Yandere Devil le ha curate abbastanza nel dettaglio, nonostante non si vedano bene. Ecco, questo praticamente potrebbe essere un piccolo spaccato della casa di Ayano, però non si vede nient'altro. Però se io salgo, salgo, salgo e salgo ancora, vedo che c'è qualcosa lassù in altissimo nel cielo. Ed è Senpai ragazzi! Quassù c'è Senpai! Tra tutte le cose che potevo trovare sopra la stanza di Ayano, c'è Senpai che sta guardando languidamente da un lato a caso, davanti a una siepe verde. Suppongo che questo serva per la fotografia che Ayano tiene in camera sua di Senpai. Ma che cosa romantica, piccola Ayano, che c'è un Senpai tipo Angelo Custode che dorme sopra casa tua. Adesso andiamo a cercare Usana. Offriamo il nostro aiuto a Usana per fare in modo che ci dà l'indirizzo del suo stalker, così potremmo andare a spiare anche casa sua. Eccoci qua in casa dello stalker. Adesso possiamo metterci a esplorare anche qua dentro. Guardate che bel cielo stellato che vediamo. Peccato però che non vediamo nient'altro. Ok, eccoci qua. Qui possiamo vedere una libreria con accanto delle fotografie. Questi sono tutti i dettagli a cui magari non fai troppo caso quando siete in missione per Usana. Qui c'è una stanza ma è completamente vuota perché non è importante che ci sia qualcosa sull'interno. Tuttavia qui vediamo la camera della sorellina del nostro stalker. Ma guardate quanto è carina! Non l'avevo mai vista in faccia, mi ricorda un pochino Usana. In realtà la stanza di questa ragazza come potete notare è molto semplice perché anche in questo caso non viene visto un bel niente da Aiano. Qui per terra c'è una sorta di pacchetto di patatine che serve ad Aiano per fare rumore nel caso cercasse di camminare verso la ragazza. La ragazza qui che parla al telefono, un'attesa che Aiano si avvicini per ascoltare quello che dice. Ma il resto del mobilio della sua stanza, nonostante la stanza sia grande, è piuttosto semplice. Abbiamo soltanto un armadio, un cassettone, un letto, un piccolo vanity senza la sedia e quella che suppongo sia una scrivania con un cestino alla finestra e un orologino da parete che segna le tre. Se proseguiamo con l'esplorazione della casa, vediamo che ci sono altre stanze completamente vuote perché non servono appunto ai fini della storia. Un'altra stanza qui che anche questa non serve a niente. Poi possiamo scendere giù per le scale. Ci sono diversi quadri in giro, uguali a quelli che abbiamo visto prima. Qui vediamo una ragazza che somiglia molto a uno dei demoni che si trovano nella dimensione dei demoni e qui ci sono ovviamente altre stanze vuote. Andiamo a cercare il padre del nostro stalker. Eccolo qua, che si sta facendo i fatti suoi. Di recente il padre dello stalker ha cambiato il proprio abbigliamento, però questa è una versione leggermente più vecchia dell'ultima rilasciata il primo di maggio. Ah, ecco cosa sta sistemando quest'uomo. Una cassetta degli attrezzi. Ora capisco tante cose. Lui si mette qui con gli attrezzi a trafficare per vedere se il televisore ricomincia a funzionare. Ah, ora capisco, tutto ha molto più senso. Guardate che bei dettagli che ci sono. E qui ci sono anche delle altre fotografie che rappresentano l'Academy Hight. In particolare qui abbiamo anche una collezione di manga, oserei dire. Non so, fatemi sapere nei commenti se vi sembra un easter egg di qualche cosa in particolare. Qui abbiamo anche le scarpe di tutti i membri della famiglia. Anche qui ci sono delle patatine, in modo da impedire a Dayano di non farsi sentire se dovesse camminare in questa zona. E poi se proseguiamo di qua vediamo anche la cucina con la mamma, che se vedete la mamma somiglia moltissimo alla figlia, più o meno hanno la stessa faccia. Lei sta leggendo una lista della spesa, una lista di ingredienti per fare la torta e questa è la cucina. Molto semplice anche questa. Abbiamo un frigorifero, dei mobili molto semplici e un tavolino con quattro sedie, una per ogni membro della famiglia. E a proposito ovviamente di membri della famiglia, qua giù abbiamo la stanza del Maniaco. E adesso possiamo finalmente spiarla un po' più nel dettaglio, questa stanza ho già paura di quello che troveremo. Qui abbiamo tutta la collezione di Magical Girl e Pretty Miyuki. Con tanto di, direi, artbook. Anche qua sotto abbiamo una discreta collezione di manga e forse anche qualche cofanetto degli anime. Comunque ci sono veramente, veramente tanti volumi. Qui ce ne sono anche degli altri. Abbiamo scatole, scatole, scatole. Qui per terra abbiamo anche un po' di schifezze che servono per far sentire i passi di chi si avvicina. Nel caso particolare di Ayano abbiamo qui delle lattine vuote e anche delle buste di patatine. Il letto e ovviamente nel letto abbiamo qualcosa che avrei preferito non vedere. Ovvero un cuscino a dimensione umana di Magical Girl e Pretty Miyuki. Sono molto contenta che sia stato censurato, onestamente. Che cosa sono queste bottiglie? Spero che siano delle semplici bottiglie d'acqua, non qualcosa che gli serve per, diciamo, usare il cuscino. Ma questa è un'altra storia, ok? Fatto sta che lui dorme con il cuscino, ovviamente. Qui abbiamo il gattino poverino intrappolato di Osana. Anche se ha il vecchio modello di gattino e non quello nuovo. E qui abbiamo un miliardo di action figure, molto simili a quelle che si trovano anche nel club di gaming. Questo è il computer dello stalker. Sì, penso siano bottiglie d'acqua quelle, poi abbiamo del caffè. E lo sfondo del computer, ovviamente, è Magical Girl Pretty Miyuki. E qui possiamo ammirare lo stalker in tutto il suo splendore. Con tutte le illustrazioni di Magical Girl Pretty Miyuki attaccate alla parete. Da quanto ne so, c'è stato un discreto lavoro artistico per riuscire a fare questa cosa e farla bene. Perché comunque ci è voluto del tempo ad avere tutti questi disegni. Se ci fate caso, sono tutti di uno stile diverso. E sono stati interpellati parecchi artisti differenti per poter fare questa cosa. Ma devo dire che il risultato finale è veramente bello. Un po' mi dispiace che il giocatore non abbia il tempo di godersi un tubo di quello che vede. Perché deve letteralmente arrivare qui e sbrigarsi e levarsi di torno perché altrimenti sto maniaco lo aggredisce. Comunque lo aggredirà lo stesso e deve pure batterlo prima di riuscire a portarsi via il gattino. Chissà, magari anche Yandere Devil prima o poi inserirà qualcosa che sia una specie di creative mode che permette ai giocatori di guardarsi la mappa senza necessariamente andare di fretta. Questo è il giardino della famiglia stalker. Perché alla fine sono tutti un po' degli stalker da queste parti. Questa zona ovviamente la potete esplorare mentre state cercando una via d'accesso alla casa. Però comunque è carino vederla anche così in maniera più tranquilla e più illuminata. Ci sono tanti fiori! Se guardate la casa dall'alto noterete che è l'unica un po' diversa e che è stata fatta appositamente con lo scopo di spiccare. Le altre case tendono a essere tutte più o meno uguali tra di loro. Chiaramente dentro non c'è assolutamente nulla perché sono case che servono soltanto come segnaposti o comunque per far vedere che non è tutto vuoto. Qui ci sono anche dei negozietti ma anche qui ovviamente è tutto non funzionale. Serve soltanto per aspetto estetico. E se usciamo un pochino dai confini della mappa notiamo che è tutto sospeso parecchio per area. Ecco non c'è nulla di particolare se non un confine nettissimo del mondo. Qui c'è la strada da cui Ayano più o meno dovrebbe essere arrivata però vedete anche da soli che non c'è nulla. Sono semplicemente delle case messe lì per far scena. Anche perché come vi ho spiegato mettere troppi oggetti inutili al di fuori della zona che vi serve renderebbe soltanto il gioco più pesante e più laggante. Comunque anche vista da fuori questa casa è veramente molto molto carina. Ovviamente potete anche andare sotto la casa per vederla meglio e vedere che qui c'è la porta d'ingresso e tutte le varie zone che vi possono servire per scappare. E nel complesso i personaggi di questa casa compiranno all'infinito la loro routine fin quando Ayano non si sarà tolta di mezzo. Ho trovato anche delle intercapedini del pavimento del soffitto non so bene cosa sto guardando però mi fa piacere vedere che ci sono così tante zone nascoste della casa tipo questa che non capisco bene cosa rappresenti ma ok. E quindi ragazzi adesso che abbiamo visto insieme così tante zone nascoste di Yandere Simulator scrivetemi nei commenti se secondo voi mi sono ancora dimenticata qualche cosa. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento e fatemi sapere qual è stata la vostra parte nascosta preferita. Io finalmente sono riuscita a vedere un pochino meglio in faccia i personaggi di questa casa e mi ha fatto piacere. Tranne lo stalker lui è un po' difficile da vedere in faccia ma comunque sia di facce ne abbiamo visti abbastanza direi per oggi. Sì Miyuki stavo parlando proprio di te. Grazie a tutti alla prossima con il magico mondo della famiglia stalker e di Kira e Tana Love. Ciao! E mi raccomando scrivetemi nei commenti se volete qualche video particolare dedicato a Yandere Simulator su curiosità o approfondimenti vari. Qualcosa lo sto già preparando ma chissà accetto tutti i suggerimenti. Ciao ciao! Ciao ciao!